Espira, butta fuori, sia nella vita che sul palco. Sì ragazzi, uno dei maggiori problemi che riscontro sui miei allievi è che non espirano mentre dicono le battute, mentre si muovono. E sapete che questo accade anche nella vita? Che trattenete tutto, ma il palco ti insegna a buttare fuori. Dovete far uscire l'aria, la voce e lo stato d'animo, ma non vedete correlazione fra il palco e il palco della vita? Io sì, tantissima. Se lasciamo uscire, viviamo meglio, tutto circola meglio, ma se lasci uscire sul palco, solo in quel caso hai un'ottima comunicazione. Il palco è la vita che si esprime.